Per prima cosa sbattete in una terrina due uova con un pizzico di sale, aggiungete 150 grammi di miele, aggiungete 200 grammi di farina e una bustina di lievito, setacciate e mescolate così, aggiungete anche 200 di panna dolce liquida e un cucchiaio di estratto vaniglia, imburrate ed infarinate uno stampo, io uso questo 18 cm perché mi piace che viene bella alta, quindi versiamo tutto il nostro composto, livellate per bene e adesso trasferiamo in forno, 170 gradi statico per 40-45 minuti. Grazie per la visione!